buongiorno ragazzi siamo in procinto di partire per la spagna speriamo di trovare belle giornate meglio dell'anno scorso eccoci qui l'anno scorso purtroppo durante le vacanze c'è stato tanto tanto brutto tempo speriamo quest'anno sia un periodo migliore la peppa è quasi pronta carica tagliando fatto come nuove speriamo nel bel tempo buona strada a tutti grazie